Credo di aver fatto una rosa di livello per la Serie D, ripeto, con individualità notevoli. Ora però questo non basta perché, come tutti sappiamo, questo è un gioco collettivo, non si vince con l'individualità, anche con l'individualità, ma se non diventiamo squadra non ce la facciamo. Tutto sta a vedere, a essere bravi, di diventarlo il prima possibile. Sono stato contento anche che la proprietaria stava molto brava anche qui a sistemare il campo allenamento perché come l'avevo visto il primo giorno quando venne qua era impossibile, invece la proprietaria stava brava a sistemare, anche queste cose fanno piacere, perché se chiedi una cosa e dopo un po' di giorni la ottieni, che si parte bene. È chiaro che abbiamo fatto di un certo interventore una campagna che acquisti per peggiorare in una determinata maniera, però non essendo bloccati, sicuramente con la linea difensiva un 4, sicuramente poi però 3-3 oppure un attaccante in più, un centrompista in meno, però quello che conta è quello che ho detto nella precedente intervista, che dobbiamo fare in modo di dominare la partita noi, o perlomeno tentare di farlo, a meno che gli avversari non siano talmente bravi da impedircelo, però ecco noi con qualsiasi sistema andremo tenteremo di fare la partita noi. Dio non dice la proprietà che più o meno dovrebbe essere l'anno scorso, io mi aspetto quello, ecco sarebbe una sorpresa quello che sta ipotizzato sull'organista, a questi giorni di andare, cioè, io non ricordo ecco che in D i squadri toscani siano andate nelle Marche o in Romagna. Mi ricordo i squadri di D che hanno fatto l'adversale Emilia sul Veneto, ma nelle Marche io non ho riordato, sarebbe una prima assoluta che tocchi proprio a dove stanno, credo, spero di no.